Cambiamenti, trasformazioni, la natura è un continuo divenire e anche noi sebbene qualcuno continui a obiettare ne facciamo parte. Ogni essere umano deve sottostare alle regole del mondo e ognuno di noi durante la sua vita si modifica, cambia. Cambiamenti fisici con lo sviluppo durante la crescita ma soprattutto cambiamenti mentali con lo studio, le esperienze e il progredire della cultura. Tutti e tutto subiscono metamorfosi e vanno incontro a evoluzione. Da una iniziativa del gruppo EduTube Italia per due settimane tra febbraio e marzo potrete assistere a dei video che illustreranno questo tema tramite diversi argomenti ma soprattutto diversi punti di vista. Si passerà dalla filosofia alla storia e anche alla zoologia senza dimenticarsi fisica e chimica. Sono addirittura 13 i canali che partecipano a questa iniziativa e non so se riesco a enunciarli tutti a memoria, comunque li scrivo sotto. Vi faccio solo presente che parteciperanno Rick Duffer, Zoe Sparkle, King Helgaard, Eliana di To the Science and Beyond, Entomologando, Historica Lai e anche molti altri. Dunque vi invito formalmente e informalmente a seguire questo progetto sul mio canale e su quello di tutti i partecipanti. Perché l'evoluzione non è una teoria e neanche meno un'ipotesi, è un fatto. Si può disquisire sul come avviene e sulle vie che prende, ma sempre fatto rimane. E sono sicuro che guardando i nostri video lo capirete anche voi. Dunque aspetto tutti i miei verdastri e anche i non-verdastri a fare una bella metamorfosi insieme a noi.